Oh mio Dio Ma è fantastico Dove siamo noi? Guarda, siamo lì che neanche balliamo Ma balliamo, facciamo conto Stanno ballando E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E questo oggi giocheremo a Youtubers Live Stiamo già registrando il secondo episodio ragazzi Ci è piaciuto troppo Vogliamo vedere come continua Quindi iniziamo subito senza perdere tempo È fighissimo, non mi piace troppo Stai battendo, stai calma Perché io adoro questo tipo di giochi Ed è bellissimo questo Quindi non vedo l'ora di vedere come continua Allora, dobbiamo essere ordinati Esatto Apri il calendario Perché voglio vedere quando è la fiera Il 10 febbraio Non siamo più messi così bene Siamo al 18, il 31 abbiamo il test E siamo ancora messi malino Qua bisogna studiare bene Ricordiamoci 10 febbraio 10 febbraio Ok, non devo dimenticare 10 febbraio Ce li abbiamo i soldi Nel caso non spendiamo più nulla E facciamo così Può essere un'idea Allora studiamo Studiamo Ah no, guarda lì Abbiamo una notifica Perché con il livello 3 È cambiato qualcosa Abbiamo i talenti Allora Oh mio dio Allora Abbiamo un punto da mettere E possiamo scegliere Non so perché non mi sta scrivendo Ok, devo cliccarli O fare le prime impressioni Ho capito Praticamente scegliamo Su che genere Indirizzare il nostro tipo di canale Quindi I classici canali con prime impressioni Penso che facciamo vedere I giochi appena usciti Esatto E tutte queste cose E dici comunque cosa ne pensi Se ti piace E tutto Oppure il casual Quindi giochi di piattaforma Sport, racing Comprende un po' di tutto Per coerenza Dovremmo andare in casual noi Quante cose abbiamo È folle questa cosa Possiamo studiare Cioè possiamo pure cambiare il network Ed essere pagati di più o di meno Oh mio dio È geniale E qua c'è la classifica dei più visti Cioè ma è super realistica sta cosa È super realistica Guarda i nostri video Guarda il distacco Cioè 78 views 1000 views 4000 views Vedi che Perché serenichi è bravissimo Sto impazzendo Ha funzionato di brutto eh Ha funzionato assolutamente È bellissimo Cioè ragazzi Come potete non amare questo gioco Oh Ci ha chiamato Marquez Marquez Ci chiede di parlare Ci vogliamo parlare Ok Sì perché no Ah Chattiamo al computer Con i nostri amici Con Marquez Ok vedi E aumenta la barra di amicizia Come The Sims tipo Sì Sì è molto È molto capito Gestionale Che riguarda anche la vita Del nostro personaggio E stiamo perdendo Un sacco di energia Però no va bene Perché sta calando Il nostro studio Mentre lui No quello non è lo studio Quella è la fame Lo so che sembrano dei libri Ma è la fame Non è lo studio Ah è una torto Ah ecco cos'è Ok 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 Allora dimmi Dimmi che non ti sembra un libro Dimmi che non ti sembra un libro Perfetto Però Stiamo d'accordo Ti stavi dimenticando una cosa Cosa? Che c'è arrivata una notifica Stiamo perdendo iscritti Perché non escono video Da troppo tempo Allora basta parlare con Marques E stiamo parlando con Marques Scusa Marques Mi dispiace Facciamo subito un video Ok Allora Cosa facciamo? Io direi di riproporre L'altro L'altro Questo? Questo? Quello del signore degli anelli Questo Ok Anche se Anche se Anche se Teoricamente Cavacchiamo l'onda Cavacchiamo l'onda E poi ci siamo presi Il potenziamento Per fare proprio Questo tipo di giochi Capito? Eh assolutamente Il livello più difficile Di sempre Il Livelli impossibili Bello Livelli impossibili Ok Questi siamo noi Quando scegliamo i titoli Dei video Cioè Siamo uguali identici No 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 Dura anche di più La scelta Sì Purtroppo sì Dura molto di più Non vi preoccupate Molto peggio Guarda Guarda questo editing Shbim Vedi? È stata la prima volta Che abbiamo Un collegamento figo Infatti render 10 ore Madonna Quanto ore Ma che programmi usi? Che programmi usi? 13 ore E 12 di upload Una vita Ci vorrà per sto video Va bene Dai Il video è più atteso dell'anno Allora andiamo a mangiare Stiamo morendo di fame Quindi Muoviti a vedere le statistiche A pubblicare questo video Ok guarda però come stiamo migliorando in tutto Stiamo diventando dei piccoli youtuber favolosi Ok Pubblica Pubblica Mamma mamma Stai tranquilla Arriviamo subito a cena Non ci picchiare Ecco Ci ha sgridato Ci ha sgridato Ah no A le interessa solo che noi studiamo Non che moriamo di fame Il cibo non le interessa Possiamo anche morire Muori dai Ok va bene Andiamo a mangiare E poi direi che studiamo anche un pochettino Secondo me ci conviene E andiamo a dormire Ma fa bene Ma fa bene Fa bene Se no guarda che cosa combini al test Fai vedere Fai vedere come siamo messi Quasi vicino al verde Se entriamo nel verde è un miracolo Vero E quindi ci accontentiamo Ok Vediamo i commenti del nostro video comunque Niente Ah vedi Ok 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 Allora tanto fino al 31 abbiamo ancora 9 giorni Quindi possiamo studiare un altro po' A aumentare ancora di più Proviamo A promuovere il video Vediamo quanto Ok Oh cavolo Possiamo spargere la voce Allora sarebbe il passaparola Le hashtag E il ref link Sì Refer al link Praticamente dai soldi a chi link al tuo video Qualcosa del genere Proviamo 15 dollari Un investimentino Sì Dai Sì 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 Dobbiamo stare attenti però ad avere i 100 dollari per la fiera Ma non penso sia un problema Nel caso andiamo magari a fare qualche lavoretto Esatto Qualche lavoro sporco Ma che lavoro Studiamo ancora Studiamo ancora Dai facciamo felice Nostra madre Così siamo tranquilli con i stessi E poi registriamo meglio no Assolutamente sì Ok 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 Guarda 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 Secondo me arriviamo alla terza barretta Eh lo spero Dai 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 Su 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 No È impossibile No ci siamo quasi Ci siamo quasi Ce la possiamo fare Ad andare preparatissimi All'esame Ce la possiamo fare Siamo a 7000 views Ha funzionato No Marquez Basta No 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 dai Basta dai È tardi Stavamo parlando e ci interrompo Marquez Scusa Ma l'educato Ma l'ha fatta anche dimenticare Guarda Come si è permesso Non ho parole Oddio Il nostro io del futuro Si è ricordato che praticamente Quando è arrivato in questa nuova casa Aveva personalizzato tutta la stanza Quindi non dirmi che ora ci fa personalizzare tutto Già Già Ok Possiamo andare a comprare Oddio Vai 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 subito Perché è la cosa che ci piace di più Che problemi strani abbiamo Mi piace personalizzare le cose Sia nell'acqua sia nell'acqua No io amo questo gioco Allora Allora Ok Vediamo cos'è Secondo te cosa possiamo comprare Un ventilatore No non ci serve Una lampada Qualcosa di bello Una lampada con la lava Io l'ho sempre desiderata Non l'ho mai Vero È bellissima la lava lamp Guardate che tutto c'è Ma qualcosa tipo dei videogiochi No aspetta Non prendiamo cose troppo care Dobbiamo risparmiare i soldi per la fiera Big kill poster Invece che kill bill Kill bill Perfetto Allora Io direi Vai su Ok Una lava lamp Da mettere nella scrivania Allora No Marques Cioè No aspetta Però c'è un party Andiamo al party Andiamo al party Andiamo al party Vediamo cosa c'è nel party E scusa Get dressed Disco Allora Nel mentre Prendiamo la lampada E anche il poster che costa pochissimo Sì anche il poster voglio No devi Devi comprare Devi comprare dal carrello No Aspetta Calmati un attimo Aspetta Non vuoi usci Non vogliamo usci No thank you Ok Vai Ok compra Mi stavo un attimino impallando Scusami Ho notato Ok Dobbiamo aspettare che il nostro ordine arriva E nel mentre ci possiamo preparare Guarda 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 Non ci possiamo cambiare il look Oh mio dio Ok Allora Dobbiamo andare a una festa Quindi una magliettina Sì Sono d'accordo Ok Perfetto Pantanoni bianchi No neri 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 Così Erano carini Le scarpe magari qualcosa di un po' meno Così Ti piace Più beige Non mi piace quel rosso Così Ok Ok Il capellino No dai Gli occhielli Teniamo Ok Sì E questo va bene Non c'è nulla Per vantarti Non lo so E non abbiamo niente nulla Andiamo così Dai bellino col capellino Allora Allora Stiamo evitando tutto Calmiamoci un attimo Siamo troppo famosi Questa ci ha invitato ad andare al cinema Ci ha invitato al cinema È arrivato il nostro ordine Facciamo una cosa per volta Esatto Andiamo alla festa Avevamo deciso di andare alla festa Balliamo Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Cioè ma è fantastico Dove siamo noi? Guarda Siamo lì che neanche balliamo Ma balliamo Facciamo qualcosa Sto ballando io per lui Non impazzire Che poi lo sai che fai a dar male la webcam Ok Dura quattro minuti E Ah vedi Uh Balla Cerchiamo una ragazza simpatica Con cui ballare Tipo Questa che Ciao capelli grigi e marroni Quella con i capelli blu Vai balliamo con lei E non mi ascolta Ah 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 Stanno ballando Gangnam Style Ah 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 Oddio Mi sta uccidendo Sto gioco È bellissimo È bellissimo È geniale Ma è troppo bellino Che poi ci possiamo Spostare di casa Andare alle feste Poi chissà come il cinema Perché l'altra compagnetta Ci ha invitato ad andare al cinema Esatto Si è roccio il pc No Perché L'abbiamo usato troppo Allora prima di tutto Però apriamo il pacco Scusa La nostra lava lampa È il nostro bellissimo poster Quanto ci costerà Dobbiamo pensare al computer rotto Oh 20 dollari Final premiere light Ah 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 Non credo Ah 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 No lo dobbiamo riparare per forza Non c'è scelta Non puoi Non puoi far finta di nulla E lasciare il pc rotto E nel frattempo che si ripara Mettiamo Aspetta è arrivato un tipo Ah lo fa lui Si Oh ma bello Non dobbiamo fare nulla noi Vai 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 Riparacelo Bravissimo Funziona Funziona Secondo me è molto esperto Guarda Vero Ha quel tocco Ha già finito Guarda Ha già finito Bravo Grazie Sei stato velocissimo Dato che ci serviva Il più in fretta possibile Ok Apri il dannato pacco Da due ore E il poster Eccolo Ah no pensavo ci avessero truffato Oh no Guarda Stiamo perdendo iscritti Dobbiamo fare anche video Allora Ah si è messo in automatico Ah ci rimette dove vuole lui E la lampada che fine ha fatto Eccola Uuu Bellina però eh È troppo bellina 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 È troppo bellina È carissima anche sta cosa Che possiamo personalizzare Non solo noi stessi Ma anche la cameretta Posso farti panicare? No Guarda che giorno è oggi Oh mio dio A che punto siamo? Mancano solo due giorni Leva le finestrelle Ah dobbiamo per forza Ok dobbiamo per forza Migliorare il nostro pc No 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 Ah no aspetta Sì questo sì Ci paga Sì 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 Ci paga Oddio Uuu Così ci possiamo anche potenzare il pc Accetta Accetta Ok 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 Ce lo manda Ok perfetto Quindi ce lo manda lei Domani è l'esame Guarda Siamo pronti dai No 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 Non lasciamo così Guardiamo gli altri eventi Guarda hai notato che ce ne sono diversi Mammona che facciamo le cose e si sbloccano altri eventi Vedi? Ok Spring festival ci sono un sacco di cose Quindi questo è praticamente il gioco che dobbiamo fare entro il 5 febbraio Questo invece è l'evento della primavera Sì esatto perché se noi andiamo alle feste poi sblocchiamo anche gli altri eventi Ci possiamo accedere anche dal nostro calendario Bellissimo Ok Facciamolo subito Guarda che bello come sembra bello Guardalo Bellissimo Possiamo sempre fare solo gameplay vero purtroppo Eh sì Non siamo Ah vabbè no Non abbiamo comprato nulla Non abbiamo comprato nulla Dobbiamo montarlo nel modo migliore possibile Quindi secondo me Così Così E così Giusto? E non si collega Aspetta 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 Forse Questo così Questo così Tutti combaciano Metti il titolo Ok Facciamo il focus dai Ok Stavolta Vai Questo video è una bomba È davvero una bomba sto video Spacchiamo Guarda la qualità Ricchi 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 Fenomeni 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 È bellissimo È bellissimo Questo ovviamente si pubblica Guarda i livelli come sono saliti Sono saliti Marquez Non ci devi disturbare Noi stiamo facendo i video su YouTube Ci sta stalkerando Aspetta stiamo andando all'esame Uh Ok C più C più Ma no Io pensavo almeno una B Una A Ma come c più Anche Però è passato Però è passato dai Quindi credo che La nostra mamma sarà Relativamente felice Vediamo Noi non ci siamo Eccoci Mamma Mamma Com'è andato Ci abbraccia Ci abbraccia e felice No ma dacci i soldi Ok Ma come solo Eh oh Ma come Io volevo più soldi 25 Hai preso C eh Non è che hai preso A Hai preso C Eh ma la motivazione Capito Sei tirchia mamma Ma smettila Sei tirchia E tu sei scarsa a studiare Ok Quindi abbiamo fatto il video Per la nostra amica Guarda i soldi Guarda i soldi Siamo ricchi 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 Almeno possiamo stare tranquilli Il festival è tra poco Quindi abbiamo i soldi Non cerchiamo di non spenderne troppi Per migliorare il pc Tre giorni Giù No aspetta I dieci Oh dieci Ok 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 Allora Obiettivo Tenerci i soldi Quindi ci teniamo i soldi Andiamo al festival Dopo che iniziamo a spendere soldi Per le cagate Più improbabili Tipo i capelli di Pikachu Ok Fermiamoci così Prossimo episodio Andiamo alla fiera E non so cosa aspettarmi Non ne ho la più pallida idea Dopo aver visto la discoteca Penso che sarà un po' come la discoteca Che vai proprio nell'ambiente Ci saranno diverse cose da fare Sarà una figata Secondo me dovremmo proprio cercare di abbordare Che i tuoi youtuber grossi Parlare Devi cercare di farti notare È quello che ci hanno detto fin dall'inizio Cercare di appunto Parlare con gli youtuber E farti notare Per avere più pubblicità Per il tuo canale Sarà divertente Sarà una figata Ragazzi il video è finito così Se è piaciuto Ascetti un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare la video Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao